Dopo dieci giorni consecutivi di superamento dei valori del PM10 nell'aria pari a 50 microgrammi per metro cubo, a Padova torna il secondo livello di allerta, il semaforo rosso per la circolazione degli automezzi. Giovedì 23 e venerdì 24 è vietata la circolazione di autoveicoli per il trasporto persone e merci a benzina Euro 0,1 e 2, di autoveicoli trasporto persone alimentati a gasolio da Euro 0 fino a Euro 5 compresa. Di autoveicoli per il trasporto merci a gasolio da Euro 0 a Euro 4 e solo dalle 8.30 alle 12.30 anche gli Euro 5. Confermato lo stop ai motoveicoli e ciclomotori Euro 0 e Euro 1. Le limitazioni vengono applicate dalle 8.30 alle 18.30. C'è un lungo elenco di strade cittadine dove si potrà circolare, in attesa del prossimo bollettino ARPAV sulla qualità dell'aria, che verrà emanato venerdì 24 febbraio.